Siamo al campo comunale dell'Alba Adriatica con Diego Giannetti della Cantera Adriatica categoria 2010. Avete vinto la partita? Un commento. Allora, questa partita è stata molto cattiva, molto maschia, una delle partite che ci viene meglio. Potevamo fare molto meglio, però veniamo da una partita appena finita, quindi eravamo anche un po' stanchi ed eravamo un po' giro di morale perché quella prima l'avevamo persa, però dai, abbiamo giocato bene. Ti sento lucidissimo nel post partita, allora ne approfitto per chiederti anche un commento in generale sul torneo, se ti sta divertendo l'esperienza che stai provando insieme anche ai tuoi compagni di squadra. Sì, ci stiamo divertendo, poi stare tutti insieme ogni volta ci diverte, quindi a prescindere è una mezza vittoria. Sì, dai, è molto molto bello come torneo, è strutturato bene, poi anche molti genitori a fare il tifo e il campo forse un pochino da migliorare, però tutto bene, dai. E allora grazie, un bocca al lupo e complimenti. Prego. Prego.